La questura di Padova ha controdenunciato il 17enne Padovano che insieme alla sua famiglia ha denunciato quattro poliziotti della squadra mobile di averlo picchiato durante un controllo antidroga. I quattro agenti sono indagati dalla procura per lesioni personali, abuso d'ufficio e calugna. Secondo il ragazzo, la notte del 16 dicembre 2022 lo avrebbero percosso dopo averlo scambiato per uno spacciatore. I referti del pronto soccorso parlano di traumi e contusioni. Secondo la ricostruzione della questura, quella notte di dicembre i poliziotti della squadra mobile avevano notato in strada il ragazzo avvicinare un coetaneo e dopo un brevissimo contatto allontanarsi entrambi in direzioni opposte. Un comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fare un controllo sui due ragazzi. Mentre uno dei due ragazzi ha mostrato i documenti, l'altro, ovvero il 17enne in questione, ha tentato di fuggire spingendo violentemente uno dei poliziotti che è caduto a terra riportando contusioni e una frattura dello scafoide con prognosi di 40 giorni. Un altro agente aveva riportato invece traumi contusivi e una prognosi di tre giorni. Il 17enne ha sempre raccontato di aver reagito con agitazione perché non aveva capito che fossero poliziotti e credeva invece si trattasse di una rapina. La questura invece afferma che per ben tre volte gli agenti avevano mostrato il tesserino distintivo. Il ragazzo era stato denunciato e poi riaccompagnato a casa. I genitori del minorenne però hanno denunciato i poliziotti. Nei giorni scorsi in procura è stato ascoltato anche il coetaneo che era presente quella notte. Nel suo caso il controllo era avvenuto in modo regolare. Dopo aver capito che si trattava di poliziotti, aveva mostrato i documenti ed era stato subito lasciato andare.